Ciao a tutti, sono scura come un carboncino, anche se molti mi hanno detto che non sono scura come un carboncino, scusatemi mi sto sistemando, sto cercando di tenere aperta la finestra, sono tornata dalla Spagna, si sono andata in Spagna con la Gaia, sono andata a casa sua, io sono rimasta dal 20 al 5 agosto, oggi è il 5 agosto, e niente, sono tornata e ho un sacco di video da fare, praticamente, allora ho tantissimi, davvero tantissimi video da fare, prodotti finiti, uno l'allucinante, e ragazze, voi non lo sapete, ma uno dei prossimi video sarà anche dedicato a un giveaway che ho vinto, e poi ne voglio fare uno perché mi sono davvero arrivati tanti prodotti, nel senso non che me li abbiano mandati, però mia zia mi ha regalato una serie di prodotti che gli ha dato mio zio, una serie di prodotti che ha dato mio zio, e tra questi ce ne sono molti, molti che sono davvero doppioni, e magari qualcuno di voi, quando arriveremo a un certo numero di iscritti, mi piacerebbe, lo sapete che mi è sempre piaciuto, e magari farvi dei giveaway, utilizzando magari anche due o tre prodotti, tra quelli che mi è stato regalato, e poi a proposito di giveaway, io appunto volevo dire quello in realtà, ci sarà un video dedicato a un giveaway che ho vinto sul canale di Jessica Mix, che non ho ancora ringraziato pubblicamente, in realtà scusami ma sono partita per il mare, e non avevo connessione, non potevo caricare video, la macchinetta l'avevo lasciata qua, davvero scusami, e ti mando un bacione enorme, e io direi di iniziare appunto dal giveaway che ho vinto, allora, eccolo qui, mi è arrivato tipo subitissimo a casa, scusatemi il disordine in camera mia, è allucinante, avete ragione, però questo qua ci sono tutti i miei dati che ho coperto, è arrivato a distanza di pochissimo, tipo due o tre giorni, no ragazzi non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, muoio, no ragazzi se non ce la potevo fare, ah ah ah, e poi mi si prende sempre dentro il piercing, ogni volta che faccio la cipolla, oh, oh, ce l'ho fatta, oh, allora, lo faccio per ringraziare davvero tantissimo, sono stra contenta di aver vinto, anche se è stato probabilmente fortuna, però sono davvero contenta perché non avevo mai vinto nulla, quindi grazie, grazie Jessica, io la seguo da tantissimo, ci da tanto, un po', mi piace, ci parliamo ogni tanto, è davvero un'ottima, 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 un'ottima persona, vi lascio ovviamente il suo canale giù nel box informazioni, allora, cosa ho vinto? Ho vinto questo fantastico pennello che mi ispira davvero tantissimo, della seta blu, questo qui, mi piace un sacco, è morbidissimo, ottima scelta, molto molto buono, molto molto buono, mi ispira un sacco, poi io i pennelli li amo e volevo collezionarli, poi vabbè, mi ha regalato questo specchiettino che sono quelli che trovate quando fate l'ordine Macillalia, ancora tutto incartato per bene, gli specchietti, come sapete, fanno sempre comodo, poi mi ha regalato questo smalto che mi piace tantissimo, di questo blu, con tutti questi strass di Essence, il 101 Jewels in the Pool, poi mi ha regalato questa pucciosissima taccuino, con tutti i gufettini, no, poi è fucsia, cioè ragazzi, con appunto dentro alle righe, voi potete scriverci qualsiasi cosa ovviamente, best wish to you, oh, che carino, e poi cosa c'era dentro? Questo set di pennelli, che la ringrazio ancora tantissimo, davvero un'ottima idea questo qua, è un set di pennelli di, se non sbaglio, Forever 21, sì, Forever 21 e contiene un pennello, questo qua per blush o contouring, un pennello classico per ciglia e sopracciglia e poi contiene altri tre pennelli, oh, Rietta, che meraviglia, altri tre pennelli, questo qua classico a lingua di gatto, questo qua per labbra e questo qua da eyeliner angolato, come potete vedere, mi piace un sacco il manico, cioè oltre al fatto che sono davvero morbidi, però il manico è davvero carino, con quanti video sono indietro, poi mi ha regalato questo rossettino qua della linea Smart Lipstick 910 di Kiko, ovviamente, mi piace un sacco il colore, davvero molto molto carino, questo qui, ed è questo bellissimo rosa, no, non è proprio quello che vedete voi, è un po' più tranquillo come rosa, però fa lo stesso, mi piace davvero un sacco, poi non è finita, cioè ragazze, una marca che non ho mai provato ma che mi ha sempre ispirata tantissimo, è la Mua, quindi ho finalmente un blushino della Mua, questo qua in particolare è lo shade 4, sempre di Mua ma regato questa palette che io l'ho aperta e ci sono due o tre colori che mi fanno impazzire, allora è questa qui, che fa un riflesso atroce, ed è questa, beh vi vedete, va bene pazienza, cerco di, non volevo aprirla, tolgo la plastichina, sperando faccia meno riflesso ma anzi che fa di più, voilà, creiamo la definitiva monto, guardate che meraviglia, no, cioè questo colore, cosa non è, cosa non è, anche questo verde, questo colorino qua, cioè, wow, sono stracontenta, I'm so happy, poi mi ha regalato questa qua, che cos'è, è una figata atroce, con i macaron disegnati sopra, e dentro cosa contiene? Contiene 5, 6, scherzavo, mini lime per unghie, cioè, strepitose, e ultimo, ma non ultimo per importanza, un altro smaltino, però questa volta abbiamo un bel chewing gum, color big bubble, ed è la color show di Maybelline, numero 262, pink boom, e mi piace un sacco, molto molto carino, non vedo l'ora di utilizzarlo, e poi mi ha lasciato un bigliettino fatto a cuoricino, ma io cosa, c'ho i fantasmi dietro o che, con una dedichina, e niente, ah, è la tenda, oh madonna che paura, uh, mamma, riprendo, niente, questo era il contenuto di tutta la bustina, di tutto il giveaway, che ha fatto Jessica Mix, mi raccomando, andate a vedere il suo canale, io davvero la ringrazio, le mando un bacione enorme, ve lo giuro, non potevate crederci quanto ero contenta, quando ho scoperto di aver vinto, ero tipo la ragazza più felice del mondo, e niente, mando un bacione a lei, a tutte voi, e sono tornata, quindi adesso vedete altri due video, in questa, con questa faccia, con questa condizione, molto, però va bene, e niente, vi mando un bacione, e al prossimo video, ciao!